Si è concluso il sondaggio apparso nei giorni scorsi sul sito del comune di Modica, che chiedeva ai cittadini modigani, tramite apposito modulo, se preferisse il ritorno delle palme a Modica, come d'antichissima tradizione, oppure l'installazione di fioriere. Con il 71% dei voti, per un totale di 405 voti dei 572 totali, ha vinto la scelta di piantumare le palme, mentre il 29% delle preferenze, pari a 167 voti, sono andate alle fioriere. A darne l'annuncio sul suo profilo Facebook, il sindaco Ignazio Abate. Dopo essere state sradicate dalla loro storica dimora nel 2017 da parte dell'assessore Pietro Lorefice, a causa di un'infezione da punteruro rosso, che ne va compromesso non solo la salute, ma anche l'incolumità di passanti cittadini, adesso le palme potranno ritornare al loro posto storico, e verrà proposta la piantumazione di palme della specie Fenix dactilifera, non solo di grande effetto scenico, ma anche resistente al punteruro rosso. Sempre su Facebook, Abate scrive, considerati però i tanti commenti e le proposte a favore di un'integrazione dei due progetti, stiamo studiando la possibilità di installare insieme alle palme anche qualche fioriera, senza però troppo caricare la nostra piazza più famosa. Resta da capire come entrambi i progetti dovranno convivere insieme, senza creare effetti scenici ridondanti. Grazie a tutti.